E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. Non sono rimasta molto. Erano più preoccupati di vendere t-shirt che di lanciare messaggi. Dici che ce la fai? Sì, certo. E che ci vuole? Però non male, sai? Sì, lo so. Ti mando qualche posto per cominciare. Fatti onore. Giù, giù! E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. Ok. Sì. 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 un'ambulanza 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 Sì, stai bloccando la strada! 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 Sì, stai blocco! Sì, stai blocco! Sì! 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 Marcus, sto vedendo alcuni dei tuoi lavori Cazzo, che roba Grazie, mia cara groupie Abbiamo nuovi follower? Oh sì, e parecchi anche Sei stato bravo, Marcus Ora possiamo smettere Ehi, ho appena iniziato Grazie 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 Sì, sì, sì Ah, ok Scusa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.